Ciao ragazzi sono Pingu e benvenuti qui in questo nuovo video Oggi siamo qui con un'altra reaction ai momenti divertenti di uno sport E questa volta ho scelto il tennis Quindi io direi di non perdere altro tempo e di iniziare assolutamente, subito Non ho capito, scusate Non si riesce a capire, la pallina esce di pochissimo Diokovic contro Monfils Classico Monfils per fare spettacolo E infatti No, si riuscì a prenderla Che grande Novak, sempre stato fantastico La qualità del video è quella che è, ma non posso farci niente Federer Diokovic, bella Non è che si vede tantissimo, non posso farci veramente niente Però degli scambi pazzeschi Cioè la pallina io non la vedo, ve lo dico Grande Diokovic, Nadal Impazzito Al massimo aggiungerò un altro video se dovrebbe essere troppo corto Oh Dio mio Oh Dio mio Impazziti Posso Nadal? Sì Oddio Fai disperti a un bambino, penso sia suo figlio Non lo so No, non penso sia suo figlio Dovrebbe stare facendo gli stessi movimenti che fa la Sharapova Potrebbe essere Che fa tutte queste cose strane Ecco Oddio Sì 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 sì, è lei, è lei Al massimo ve lo corrego, ve lo scrivo Allora, se sei uomo fai l'urletto però Se sei uomo fai l'urletto servendo Andiamo Eccola Oddio Oddio E' un secondo di pausa ve lo taglio E' appena morto Diokovic Eccolo Oddio Fantastico Oddio Omid Il partiene alle bertti in beneficenza Oddio ... Diamo con...! Oddio Dovi Iscriviti Devito Problema Per Washington, Rublin, Isner si è andata la scarpa mi pareva di aver visto ma come devole è possibile non è mia quanto caldo fa oddio le sorelle Williams non ho capito ma cos'è Serena Williams? ah che salta nel pubblico ok ho capito adesso ho capito io l'ho sentito alla fine oddio è morta che non è assolutamente piccolo Federer e in questo match quando si fu fuori di opzioni per tentare di battagli si chiede la battaglia ma no non mi si rewind ok rig ok e cosa vorrei fare? io sai cosa tu fai dimmelo non lo so oddio oddio talmente non trovo ottimo Billy Jean ma cosa succederà next è hysterical ed il suo chair è vero il suo chair oddio 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 è morto e niente non l'hanno più trovato è vero? sì l'ho tirato su oh il suo il suo non sto parlando no no siamo molto preoccupati con te era un po' non sto parlando sì 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 Andy Murray nel prossimo gioco quasi prende la heada di umpire quando le poteva una balla di tennis a la head ok madonna mia questo è visto anche alla squalifica eh Diokovic con un fan spero che non mi tenno copyright non so il PSN adale o un tifoso oh impazzì cioè momenti divertenti questa è di impazzia oddio gli hanno aperto la gamba cavolo beh questo penso sia stato squalificato non mi ricordo come si chiama Dimitrov quindi che cosa stava è passato sotto la rete vabbè tanto ha toccato la rete quindi anche se c'è punto non valeva canada-romania la begu è veramente forte la begu la madonna quante foto donna non è per le mie due foto è sempre corri corri oddio va bene ma sta troppo caldo non ce la faccio non riesco a capire non riesco a capire la musica è un po' alta ah sempre quello ok questo è quello di prima sarà un po' molto ok fantastico vediamo un attimo se aggiungo ancora un video oppure possiamo chiudere qui no dai aggiungiamo ancora un video ci sta ci vediamo fra un attimo allora non ho trovato un video decente quindi sinceramente che fosse dello sport preciso per un momento quindi direi che possiamo anche concludere qui quindi comunque sono un 10 minuti abbondanti quindi ci sta non esatto la bottiglietta mi tenta di fare un attentato al cuore ottimo non evito di fare video troppo lunghi perché già i gameplay vengono abbastanza lunghi anche questi sarebbe un po' troppo casomai se li volete un po' più lunghi ditemi non lo faccio non è un problema quindi vi ricordo di lasciare un like un commento iscrivetevi perché altrimenti il mio naso resta bloccato e tappato per tutto il tempo e io non ce la faccio già più appunto seguitemi su Instagram Enrico Canzoni Pingu per non perdere nessuna novità di nessun video di quando uscirà e io non posso far altro che rimandarvi al prossimo video augurarvi sempre una buona estate buono studio se lo state facendo non lo so che video sarà il prossimo ma lo scopriremo ciao ragazzi al prossimo video ciao